Buonasera a tutti, scusate la mia intromissione in questo gruppo ma francamente lo trovo spettacolare diciamo. Ho appena finito questa lunga giornata qui in Comune e vi voglio dire che mi avete veramente allettato con tutti questi piatti buonissimi che avete postato. Forse non lo sapete, anzi lo sanno in pochi, ma io sono un grande appassionato di cucina perché sin da piccolino mia mamma mi ha insegnato a cucinare e quindi continuo a dilettarmi. Allora voglio partecipare anch'io, siccome la sera anch'io come tante non so come passare il tempo dopo una giornata così stancante, una di queste sere ho deciso il piatto che cucino, faccio se ci riesco come ci riuscivo una volta e le facevo buone, delle ottime linguine allo scoglio che è un piatto tipico della nostra terra, del nostro mare e mi cimenterò insieme a voi. Vediamo chi è più bravo, se ci riesco ad essere almeno competitivo con tutte queste cose buonissime che avete messo su questo gruppo. Buonasera da tutti e vi saluto veramente con grande affetto.